Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore, Giovanni Vescovo è il nuovo postino del popolare programma C'è posta per te. Questo affascinante trentenne originario di Treviso, attualmente lavora come PR a Roma, e ha già conquistato i fan con il suo aspetto da principe Disney. Sebbene Giovanni non sia un volto nuovo in TV, avendo partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne, nel 2016-2017 per conquistare la tronista Sonia Lorenzini, la loro relazione non è perdurata nel tempo. Dopo questa esperienza televisiva, Giovanni si è ritirato dal mondo dello spettacolo e non è più attivo nel corteggiamento televisivo. Parlando del suo nuovo ruolo in C'è posta per te, Giovanni ha espresso la sua sorpresa iniziale, avendo inizialmente rifiutato l'offerta poiché non si sentiva in sintonia con la proposta. Tuttavia, è stato successivamente scelto come postino del programma e ha iniziato a collaborare con la presentatrice Maria De Filippi. Giovanni è rimasto impressionato dalla professionalità e umiltà di Maria, descrivendola come dolce, educata, rispettosa e profondamente innamorata del suo lavoro. Le parole di Giovanni riflettono il suo rispetto per la regina della Mediaset. Non vediamo l'ora di vederlo ancora nel suo nuovo ruolo in C'è posta per te. Auguriamo a Giovanni una lunga permanenza nel programma e siamo entusiasti di vedere come si svilupperà il suo personaggio. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.